Siamo a Montefiore Conca con un'amica Marisa Grasso Raciti che è tornata per la seconda volta. È tornata in questo luogo perché due anni fa intitolammo quest'arena all'ispettore capo di polizia Filippo Raciti, suo marito, che è stato tragicamente ucciso a Catania il 2 febbraio del 2007 durante una partita di calcio, il derby Catania-Palermo, allo stadio di Catania. Purtroppo questa targa è stata distrutta in maniera vandalica e dunque io ho deciso di riprodurla nella stessa identica maniera come era stata messa in origine e rifare questa ricollocazione in modo che rimanga veramente in tutti noi il ricordo di un eroe che per molti è ancora purtroppo sconosciuto. e ho voluto Marisa qui di nuovo perché è lei la testimone diretta di quanto è accaduto e di quanto ha subito poi in conseguenza. Lei e la sua famiglia, giusto Marisa? Certo, ti ringrazio sindaco, ti ringrazio caro amica Vallier. Vedi, io con i miei figli, con mio marito abbiamo conosciuto una forma di razzismo, di odio, di un modo di vivere in maniera sbagliata. Se oggi io sono vedo e se i miei figli crescono senza padre è proprio perché c'è questo messaggio diseducativo che passa in continuazione. Con la morte di mio marito ho conosciuto un'ulteriore violenza e dove l'ignoranza può arrivare, ti fa veramente male e distrugge tutto in pochi istanti. Noi eravamo una famiglia felice e avevamo costruito tanto. Non è stata semplice la nostra realtà perché mio marito non è cresciuto in un bel ambiente, è cresciuto in un ambiente povero di Catania, in un quartiere degradato di Catania. Eppure ha avuto il coraggio di uscire fuori da quella realtà attraverso l'utilizzo di una divisa, attraverso un servizio e attraverso un contributo sano che potesse dare giustizia a chi crede nei valori. Il matrimonio mi ha permesso di condividere con lui questa realtà che in un primo tempo, effettivamente quando mi sono sposata nel 90, giù in Sicilia la vita di un poliziotto non contava. Saltavano in aria gli uomini, i poliziotti e nessuno sapeva i nomi. Si lottava per il ricordo di quel poliziotto che aveva lottato contro ogni atteggiamento mafioso e contro ogni malavitoso. E quindi quando è morto mio marito in quella realtà assurda, io ho voluto raccontare tante vicende che ho vissuto con lui e che ho condiviso perché non capitasse più quello che è successo a casa mia, perché la violenza negli stati non deve esistere e soprattutto non deve esistere un servizio di ordine pubblico nello stadio, cioè è inaccettabile. Quando ho sposato mio marito nel 90, lo sposai con una paura perché era sempre un poliziotto e quindi giù in Sicilia potevo anche sposare anche un rischio, quello di indossare un abito nero troppo presto e far crescere i miei figli orfani. Però il reparto mobile e i servizi di ordine pubblico non mi spaventavano perché ero ancora piccola e ignorante, non conoscevo la realtà del reparto mobile. Infatti subito dopo due mesi di matrimonio ho iniziato a capire com'era questa realtà e negli anni invece della pericolosità del servizio di ordine pubblico diminuisse. Ho visto che questo aumentava, aumentava tant'è che ho visto mio marito tante volte tornare a casa con la divisa sporca, con le umiliazioni, ovviamente umiliazioni e sofferenze che ha condiviso con me, con la sua famiglia perché era il nostro sostentamento economico a livello familiare, era stata una sua scelta lavorativa, era stata una sua volontà quella di indossare la divisa e io con il matrimonio ho voluto condividere tutte le sue scelte. Quando il 2 febbraio, dopo un servizio di ordine pubblico allo stadio per un derby che doveva essere per tutti i siciliani, un derby del cuore, l'espressione finalmente di un'unione siciliana, di un senso di civiltà, io ho visto mio marito finito in obbitorio senza divisa, l'ho capito che proprio manca l'educazione in ogni campo e allora lì ho avuto il coraggio o la forza di parlare per lui, per tutte quelle volte che a casa era ritornato a casa con l'amarezza in bocca, per tutte quelle volte che a casa era tornato con la schiena rotta, con le gambe rotte, per quella volta che a casa non è tornato più perché non l'hanno fatto più tornare. Tutto questo perché? Perché alla violenza si risponde sempre con un gesto di educazione, all'odio con l'amore, all'inciviltà con l'educazione. Io credo molto nei cambiamenti e in questi 12 anni ho avuto l'opportunità, la possibilità dopo la tragedia di conoscere come te tante persone che veramente portano avanti questo progetto di educazione proprio per il cambiamento delle cose. Credo molto in Dio e credo molto in questo disegno divino. Io credo che niente capita per caso, non c'è cosa che Dio voglia. Forse il sacrificio di quell'uomo, il sacrificio di mio marito, voglio dire, e mi viene anche pesante a dirlo, deve essere utile per un cambiamento. Allora se tutto ciò è vero, fa parte di un qualcosa di grande che può restituirti solo pace e dire, sì, doveva andare così. La violenza fa male, posso aggiungere solo a chi la fa, perché è incapace di condividere con gli altri sentimenti belli ed emozioni belle, vivere la vita per come sia giusto viverla, è inutile, è inutile. E quindi ti ringrazio per questo messaggio di educazione che tu stai lanciando, anche così lontano dalla mia città, da Catania, dove avrei voluto che un posto così bello, che onori la memoria di mio marito, cioè non per invidia, ma sarebbe stato giusto che una cosa così bella venisse fatta anche da Catania, nella città dove lui ha vissuto e dove ha perso la vita. Perché questo messaggio che tu hai lanciato da qui è un messaggio nel rispetto della vita, nel rispetto dell'educazione, nel rispetto delle regole, è altamente educativo. Quindi spero che da qui possa arrivare a Catania, possa ritornare altrove e veramente che dia un senso a tutto ciò che non ha senso. Grazie, grazie a te, grazie a te, grazie perché il messaggio che oggi Marisa ci lascia è questo. Filippo Raciti non era un siciliano, era un piemontese, era un lombardo, era un romagnolo, mi commuovo, perché era tutti noi, era l'Italia, Italia vera, Italia che combatte, perché ci sia la sicurezza, come hai detto te, perché ci sia la libertà e perché soprattutto venga garantito un futuro alle generazioni che verranno. Quindi lui ha sacrificato la vita e sicuramente, visto che il messaggio è giunto fino qua, non l'ha fatto in vano, noi cercheremo di far sì che il ricordo rimanga e soprattutto che le generazioni che verranno divulghino questo nome e che lo ricordino, perché veramente solo ricordando questi sacrifici possiamo avere speranza in un futuro migliore.